Alcuni monaci intuiscono che nei fulghi ci può essere un'energia, una forza, l'hanno chiamata, utile all'uomo. Eh ma, avevano un problema. Non avevano un voltmetro, non avevano un wattmetro. Non potevano dimostrare che questa intuizione poteva diventare qualcosa di più concreto. Poi, qual era un periodo un po' strano. C'era un'organizzazione che si chiamava Santa Inquisizione. E dato che loro avevano dato questa idea, avevano proposto questa cosa senza avere la certificazione, senza essere certi di quello che dovevano dire, furono tacciati di resina e fu dato fuoco al monastero, ma con l'accontezza di lasciare chiuse le porte mentre il monastero bruciava, in modo che anche i monaci sono bruciati insieme al monastero. Cosa è successo nel 1300? Hanno fermato il nostro futuro, perché l'energia elettrica è alla base del nostro futuro. Provate a fare un esperimento scientifico senza energia elettrica. Ci fermiamo al piccolo chimico, quando eravamo un bambino e mi schiavamo due cose. Provate a fare crescere una nazione senza energia elettrica. Non è possibile.